Ha detto che mi busta? Sì, sempre così Vedi? Anch'io ti busto Tu che ti conosco? A lei regalano le cose, lei ha sempre scarpe rosse dal tipo 1997 E loro sono carini, con color... no! Stai mettendo il dito sul microfono Cazzo me ne frega, devi entrare in un naso Cosa? Sei contento ora? Ho un po' di caccole di ciabbi adesso Eh, valgo un tanto Valgo un tanto Ciao Sclozza! Ormai sei sempre nei miei vlog, sei contento? No Prima Google, oggi in piazza, domani nel bagno Non è più vero Non è vero? Questa è scontata grazie... Placement! No, placement Effettivamente... Codice sconto per fare placement Codice sconto Sclozza sotto in descrizione Avrete il 30% di patatine fritte Allora signori Siamo in Duomo Siamo sotto il culo del cavallo Ciao E praticamente io sto cercando con Tiuccio Ciao Noi siamo gli amministratori più belli e più belli del mondo L'hai eliminato il culo Ahhhh Allora, comunque Qui abbiamo un cileno 20 Uno puzza Quindi non hanno usato gli lascelle Poi abbiamo Charlie Moon Charlie Moon culo Con la maglia nuova Sta Poi abbiamo un fan Una mamma di un funz Abbiamo un altro fan Abbiamo un altro fan Lui non so chi sia Poi abbiamo sclozza E poi abbiamo più Stop 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 Andiamo dai Mates Ah questo è il Duomo Per chi non lo conoscesse Andiamo dai Mates 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 No Adesso Ragazzi voglio delle castagne Non si vede nulla No No Castagne Buongiorno Buongiorno Siamo a casa di Lorenzo Ciao Non è contento Perchè abbiamo bruciato una tastiera E mi passa Ma di veramente Ma di veramente Comunque Guardate Guardate cosa abbiamo fatto Ehm Qua c'è una bottiglia Oh Cri no E' un'opera d'arte Non devi prendere con un dito Devi prendere con due mani Di Ecco il copyright Il copyright Addio Sclozza Cosa vuoi dire Di qualcosa Firma copy di Mates Ehm Chapter 5 Un luogo fleet Angmatiche Un luogo Grade Un luogo Perchè Ehm Centrale Mi D